Siamo qui con gli Slipknot, no non è vero, sono i volumi criminali, ragazzi facciamo un urlo? Visto che... Oh! Là, era tutto il giorno che aspettavo questo momento, perché ho detto, ma dove sono i volumi criminali? Ed ecco lì, erano in macchina. Erano dispersi per le strade. A bestemmiare, no, non è vero, non si fa, non è vero, non si fa. Allora ragazzi, che cosa vi aspettate da questa finale di Rock Targato Italia? Chi mi risponde? Beh, sinceramente la speranza è quella di ottenere qualcosa, cioè nel senso di colpire, quindi che il volume criminale arrivi agli altri e che ci sia un bel feeling, ma comunque noi miriamo all'esperienza e a far divertire e divertirci noi, questo è lo scopo. Beh, io l'ho capito, io quando li ho visti suonare mi sono chiesto, ma chi sono, dove sono i volumi criminali e il volume criminale li ho visti, ho capito subito, appena ho sentito il soundcheck, quindi quello arriva, quello arriva sicuramente. Qual è la vostra caratteristica? Cioè spiegate agli amici di Rocker TV cosa fate e qual è la caratteristica della vostra band, musicale o comunque anche compositiva. Allora, noi suoniamo da tantissimo tempo e veniamo tutti da esperienze diverse, abbiamo avuto diversi cambi da line-up e dal 2017 ad oggi abbiamo ottenuto questa formazione. nostro principalmente partiamo dal fatto che ognuno porta la sua idea, fa quello, propone quello che vuole in base alla sua esperienza, al suo background e nasce un sound. E questo sound comunque è diverso da canzone a canzone, da momento a momento viviamo molto le nostre esperienze, sono tutti canzoni molto personali, molto introspettive, fondamentalmente comunque è crossover. Nell'ultimo anno abbiamo aggiunto anche qualcosina di elettronica, siamo andati un po' più sul rap, sull'hip hop, però diciamo che suoniamo quello che ci piace, tanto ormai è una vita che facciamo questa cosa qua, la facciamo per piacere, è arrivata questa occasione e abbiamo detto buono, almeno dopo tanti anni ha finalmente una cosa buona, anche perché seguo Rock Targato Italia e Divinazione Milano dà una vita, quindi per noi è una bellissima cosa venire qua e proporre la nostra musica a gente del settore che capisce la musica, perché non è facile trovare anche gente che sta qua, ti ascolta, ti giudica e ti invita a un evento così. Ahimè è vero e speriamo ci siano sempre più eventi come questo per dare spazio all'underground che per quanto mi riguarda è la mia linfa vitale, perché è facile stare dalla parte del mainstream, ma in realtà l'underground secondo me è da dove parte tutto, quindi complimenti perché ho visto che da tanti anni siete inattivo e quindi bravi, perché è il 2001, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata, di band ne avete viste, sicuramente di pelle ne avrete cambiate tantissime, ma vi chiedo qual è il fiore all'occhiello della vostra band, cioè c'è un brano che vi fa dire ok io vi consiglio di ascoltare, cioè per capire chi siamo ascoltate questo brano? Ma no, sono brutti tutti, guarda. È appunto, è quello che ci piace. La caratteristica è che noi cerchiamo sempre di fare un brano diverso dall'altro, per non essere mai scontati, anche magari quando arrangiamo un pezzo diciamo no, questo è troppo buono dall'altro, ora cerchiamo sempre di... non saprei dirti quale... tutti dai, tutti, ascoltateli tutti. La band esiste dal 2001, però questa formazione è in piedi da 5 anni, che aveva l'obiettivo di mettere in piedi un EP che è stato composto inizialmente con un'altra formazione e diciamo che solo negli ultimi due anni, anno e mezzo, tra anche il Covid, abbiamo cominciato a mettere in piedi il nostro stile. Quindi quello che portiamo stasera sicuramente è quello che maggiormente rappresenta l'onda che stiamo provando a cavalcare, ma è uno stile completamente in evoluzione. Come ha detto Luca, le canzoni sono tutte diverse, noi siamo sei persone diverse e prego Luca. Il secondo pezzo che faremo ti piacerà sicuramente. Ascoltalo attentamente, potrà servirti. È un consiglio per tutti. Basta. Invece, visto che abbiamo creato questo hype, dove possiamo trovare il vostro materiale? Allora, noi abbiamo... Allora, vabbè, su YouTube, se volete scaricarlo gratis e ascoltarlo gratuitamente, come è giusto che sia, ok? Poi sui nostri canali social, Facebook, Instagram, potete ascoltare qualcosa. Se no, su Bandcamp sono disponibili in ascolto i nostri brani, se no sono scaricabili a 5 euro. E questa sera regaleremo i codici per scaricare i nostri brani da Bandcamp ai presenti. Viva i social! Viva i social! Ecco, volevo chiedervi questo perché mi incuriosi, non l'ho chiesto a nessuno oggi. Che rapporto avete con i social? Perché secondo me ci sono dei rapporti contrastanti con i social network in questa band. Dunque, abbiamo un rapporto con i social, direi variegato, nel senso che l'età sono abbastanza dissipate tra gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90. Lui nel 2001, quando vi siete formati, aveva 6 anni, io ne avevo 13 e lui ne aveva 14. No, quindi in realtà... E io non andavo all'elementare. In realtà quello che, come dire, la persona che si occupa un più di queste cose, bisogna dare un merito, come dire, un ora al merito a lui, che è il nostro, come dire, promoter principale. Esatto, ed è quello che si dedica un pochettino, diciamo, di più alla parte delle relazioni con il pubblico, del promuovere il nostro prodotto. E fa un grandissimo lavoro, quindi questa cosa, credo, che gli vada anche resa pubblicamente. Grazie. Dai, grazie. Beh, allora, ragazzi, viva i so. No, ma non so perché, senza offesa, ma l'avevo capito. Cioè, avrei scommesso tutto su... Non lo so, io ho visto proprio la sua faccia disperata quando ho fatto questa domanda dei social, però bravo perché si faceva un buon lavoro. Quindi, ragazzi, grazie, in bocca al lupo per dopo. Grazie, siete i numeri uno. Grazie, anche voi, eh. Salute e baci.